Signore e signori, buonasera, questa è Minecraftita, io sono Surry e oggi andiamo a completare, a portare avanti la nostra missione delle carotte d'oro perché mi sono reso conto che c'è un modo migliore per ottenere dell'oro e cioè andare a scavarlo. Ora ho cercato sulla wiki e ora vi racconto bene come si fa a trovare in genere l'oro, però soprattutto abbiamo un piccolo cheat code nel nostro mondo perché abbiamo già trovato un bioma in cui c'è la generazione 3x per quello che riguarda l'oro per l'appunto. Quindi, allora, mettiamoci di buonumore, non so perché ho detto buonumore, non ha molto senso dire buonumore, però ci mettiamo di buonauspi... Non lo so, insomma, allora iniziamo a viaggiare, mi dovrei portare un lettino perché sennò io vado sempre in giro senza nulla ed è un problema. Quindi è meglio avere un lettino con sé che non non averlo. Fai così, perfetto. Tanto non siamo nel nether, quindi anche se clicco col destro non esplode nulla, siamo riusciti comunque a far esplodere le cose, lo so, vabbè, lasciamo stare. Andiamo in questa direzione e ci andiamo con molta cattiveria e lungimiranza. Seguiamo la linea del mare. Questo qua c'è un laghettone bellissimo, ma non è ciò che ci interessa. Noi vogliamo viaggiare in alto. Mi chiedo se a questo punto... Sì, lo faremo. Metteremo le shaders per viaggiare perché, ragazzi, sono più belle, cioè, almeno vedi il mondo con le shaders, è più... Madonna, che ficata. Allora, andiamo seguendo la costa. Perché non sento più i suoni? Se bug us Minecraft? Ah no, eccoli. Vabbè, comunque dobbiamo andare da queste... Sai che non so se è da questo lato? Devo trovare l'oceano. Ecco, questo è l'ingresso dove potremo fare delle statue, tra l'altro. No, sta venendo fuoco là... Vabbè, come non detto. Andiamo dritti da questa parte perché dovremmo trovare le bedlands. Esatto. Allora, l'oro si trova in diversi contesti. Il primo contesto in cui puoi trovare l'oro è, in realtà, il classicissimo andare a fare mining. Quando fai mining, l'oro lo trovi più o meno da meno 68 a meno 12, una cosa del genere, e di conseguenza il punto migliore dove trovarlo è a meno 17 barra meno 16. Quindi se io mi mettessi a fare strip mining a meno 16, meno 17, troverei una buona quantità di oro. La fortuna dell'oro, tra l'altro, oltre a scavarlo con fortuna, con fortuna 3 intendo, è che sono batch che arrivano fino ad avere tipo 13 blocchi d'oro, che sono tantissimi e ti consentono quindi di portare a casa già un buon risultato e diversi stack di oro che poi potremo cuocere e chiaramente trasformare in carote d'oro. Perché noi siamo qui per la missione delle carote d'oro. Nulla di più, nulla di meno. Ma sempre dalla wiki mi sono informato un po' meglio, sono andato più in profondità, ho cercato, no? Tipo quella scena nel Signore degli Anelli. Lo so che parlo sempre del Signore degli Anelli, ma c'è un motivo. È la saga che ha vinto più premi di sempre. C'è un motivo se è successo, no? Credo di sì. Vabbè, comunque, nel Signore degli Anelli c'è Gandalf che va a cercare nella libreria con le pergamene. Esatto, io ho fatto più o meno quello, però su Google è stato molto meno impegnativo. Non ho dovuto prendere un cavallo bianco e farmi mezza terra di mezzo, tra l'altro, tra le altre cose. Ma qui? Allora, qua, abbiamo già un deserto rosso che è simpatico. Qua abbiamo una situazione non ideale. Allora, abbiamo i Jimbrow che li avevo già liberati, evidentemente, e stanno tenendo la zona pulita, ma non con molta efficacia, se posso dare la mia. Comunque sì, qui abbiamo già aperto, quindi ci siamo già stati. Io credo di dover andare da questa pa... sì, da questa parte. Qui abbiamo l'oceano caldo, dove purtroppo non potremmo trovare i relitti di archeologia. Stiamo andando nella direzione giusta? Stiamo andando a sud. Non lo so se è la direzione giusta, però da questa parte dobbiamo trovare le Badlands. E le Badlands sono dove, tra l'altro, si trovano tutte le questioni, tipo... dove abbiamo trovato Carmela, per capirci. Eccole. Le Badlands sono il bioma migliore dove trovare l'oro, perché se ne trovano in quantità industriali, o perlomeno così c'è scritto sulla wiki, ma non solo, se ne trovano in 3x, ma anche... uh, ma questo è un dungeon? Ma che... ma che culo indecente ho, signori, ma... vogliamo parlarne? Parliamone che ho un culo indecente. Cosa è? Oro, perfetto. I dischi anche li prendiamo. Il grano lo vogliamo? Non lo vogliamo, però tanto non ci interessa. Abbiamo due shulker box e possiamo tenere tutto ciò che vogliamo da parte. Ma proprio tutto, eh. Non ci blocca niente a sto giro. Abbiamo due shulker, cioè... Allora, per l'appunto, come vi dicevo, qui ora abbiamo trovato del carbone, ma in queste vicinanze dovrebbe essere particolarmente semplice... Ora, io dico particolarmente semplice perché lo spero anche, non solo perché lo so. Ma lo so perché l'ho letto, però non sempre la teoria corrisponde alla pratica. Qua siamo nelle Badlands, si chiamano Badlands, giusto? Ah, Wooded Badlands, va bene. Allora, facciamo un giro in alto perché c'è anche del legno qui. Ma non interessa particolarmente il legno. Non interessa, esatto, tipo sta roba qui. Sta cavernona dovrebbe consentirci di trovare una marea di oro. E lì troviamo il primo. E... Lì ce n'è un altro. Perfetto. Fantastico. Allora, buttiamoci qui. Iniziamo a raccogliere. Spero non siano blocchetti singoli. Sono esattamente blocchetti singoli. Va bene. Qui c'è un altro. Allora, a me avevano promesso dalla wiki una grande quantità di oro. Ma quando mi dici grande quantità di oro, io mi aspetto una grande quantità di oro. Così, tanto grande come quantità, non mi sembra. Oh, ecco. Esatto. Questo è ciò che stavo cercando. Ecco, nelle Badlands, se le trovate, perché non è facile trovare una cosa del genere. Anzi, appena sponi nel mondo, qui abbiamo avuto diversa... Oh, la Madonna. Ma dove cazzo sono finito? Ma che cos'è questo? Narnia? Porca puttana. Che cazzo è? Bellissimo. Bellissimo. Non vedo oro, però. E quindi non mi interessa. Quello è oro? Quello mi sa che è oro. No, potrebbe essere ferro? Nel dubbio. Andiamo a cercare. Che bello che posso lanciare. È oro? Ma che figata. Perfetto. Andiamo a prendere l'oro. Qui siamo pieni di roba. Non ci interessa. Dobbiamo stare un po' attenti a eventuali mob che ci uccidono. Ma che figata clamorosa. Oh, dove cazzo sei? Che mico più usci da dietro. Maledetto. Pieno di colori. Cioè, pieno di colori. Pieno di cose che possono uccidermi, in realtà. Raccogliamo quest'oro. Vediamo se ce n'è altro qui nelle vicinanze. A parte il bro che prova a spararmi. E ci riesce, maledetto. C'è altro oro lì in fondo. Allora, qui non è proprio comodo raccogliere oro. E siamo pieni, eh. Perché siamo pieni. Però lo sapevo anch'io che eravamo pieni. Usciamo da qua sopra. E ma che bel cratere. Che figata. Io non ho segnato le coordinate di dove sono arrivato, però. Vabbè. Ce ne faremo una ragione. Sta diventando notte? Sta diventando notte. Per fortuna che io ho il mio lettino. Anche perché qui non abbiamo molte luci. Quindi non è che ci interessa vedere le shaders. Non le shaders. Potrei rimuoverle magari dopo il tramonto. Dopo il tramonto. Facciamo un po' e un po'. Ok? Abbiamo deciso. Ho deciso, ma in realtà. Ma abbiamo deciso per posizione popolare. Per votazione. Non è stata una vera votazione. Ma diremo di sì. Ma che figata. Incredibile. Clamorosa. Ma dove cazzo sono finito? È bellissima questa roba. Voglio farla in volo. Ma incredibile. È bellissima. Allora. Oro. Dobbiamo trovare dell'oro. Madonna. Bellissimo. Davvero, davvero bellissimo. Dormiamo. Che è meglio. Allora, io direi. Proviamo a infilarci una di queste cavernone. Ecco. Tipo così. Questa copper. Che forse dovrei prendere, eh. Perché. Ora è l'oro. Ma arriveremo a un punto in cui mi servirà tipo. Oh, bello. Mi servirà magari il rame o il copper. Non mi ricordo come si chiama neanche. Non mi ricordo. Però arriverà un giorno in cui ci servirà anche quella roba lì. Fatto sta. La soluzione, diciamo, la morale di questa storia è che se avete bisogno di oro. Avete. Guarda quanto oro c'è. Guarda. Vedete? Quanto oro c'è? Proprio tanto, signor Ragno. Posso dire la verità? Che, cioè. Non mi fa neanche paura. Perché so che abbiamo tantissimo oro. E ciò mi rende molto felice. Ok, scherzato. Qua non ce n'è di oro. Torniamo indietro. Allora, raccogliamo l'oro che vediamo. Di solito, ecco, anche un'altra differenza. Di solito l'oro non tocca l'aria. O perlomeno è difficile che l'oro sia a contatto con l'aria. Con un blocco di aria. Però nelle bedlands questa cosa non viene rispettata. E di conseguenza conviene di più girare nelle caverne superficiali che non fare, non lo so, strip mining in questo caso. Ecco, guarda. Qua c'è del netherrack. Quindi ci sono già stato. Ma non mi spaventa ad esserci già stato. Perché sono abbastanza sicuro. Che belle e incredibili le scede. Sono abbastanza sicuro di aver trasciato tutti i blocchi di oro che ho trovato. Ma è una sicurezza che è quasi doppia scontata. Perché non lo prendo mai l'oro. Ah, tanto c'ho la farm nel nether. Bella, eh? Però, madonna, se è lenta. Cioè, dovrei fare più livelli di quella farm lì? Potrebbe aiutare. Però comunque non è il massimo. Perché ottieni le pepite più qualche lingotto. Che fa piacere. Non ho ripreso il mio lettino? Sono un cane. Andiamo a recuperare il mio lettino. Che era qui da qualche parte. Non ce l'ho, vero? Sbaglio. Dovrebbe essere qui. Ah, merda. Ho perso il letto. Ho perso il letto. Eccolo. Top. Poi i blocchi bianchi con accanto questa terracotta bianca. È terracotta, vero? Terracotta, sì. Vabbè. Allora, prendiamo il lettino. Avevo già uno stack e 21. Vorrei giusto sottolineare questa cosa qua. Che è esattamente il motivo per cui siamo qui. E non a fare strip mining. Vediamo, vediamo, vediamo. Qua c'è qualche rotaia. Fantastico. C'era dell'oro che ho lasciato? Ma chiaramente sì. Chiaramente. Non dovrei neanche chiederlo. La quantità di oro che lascio io qua in giro è indecente. Indecente. Ora, purtroppo qui ho già esplorato tutto. Quindi è vero che probabilmente ci sarà dell'oro a destra, a sinistra. Vabbè, chiaramente questo spawner non ci interessa. Possiamo distruggerlo. Vediamo se da questa parte c'è un po' di oro. Incredibilmente no. Dicevo, avendo già esplorato, lo sbatti principale è che poi tornare in superficie può diventare un po' più complicato. Leggermente, ecco. Leggermente. Siamo già quasi a due stack. Incredibile. Fantasma agorico. Qui vuoi che non troviamo una marea di oro? Allora, potremmo trovare anche la morte, obiettivamente. Però bello. Così tutto colorato, con le catene. Molto simpatico, devo dirlo. Molto simpatico. Ok, di qua abbiamo un'altra uscita. Zombie su zombie. Di là ci sono appena arrivato, probabilmente. Tu muori, grazie. Di qua non vedo oro. No, credo che dovremmo uscire da qui. Non vedo ciò che mi serve. Cioè minerali a go go. Oh, e invece eccoci qua. Allora, ammazziamo la gente prima di morirci. Perché è un secondo che ora mi arrivano otto zombie da qua sopra. Mi stanno seguendo? Non mi stanno seguendo, fantastico. Guarda quanto oro! Guarda quanti ce n'è! Bellissimo. Ok, siamo quasi quasi a due stack. Vogliamo scendere di qui? Vogliamo provarci? Allora, in teoria non conviene scendere troppo. Già qui siamo a... Beh, 49 in realtà... Oh, morti! Mori un po'. Dobbiamo provare a vedere... No, non c'è oro. Allora, come vi dicevo, di solito se vedi l'altitudine giusta ti puoi buttare, fare un po' gli stream mining, troverai dell'oro. Nelle badlands, con il fatto che c'è il triplo in generale rispetto a ciò che si trova di solito, se è abbastanza safe è semplicemente andando in giro finché non becchi un po' di oro esposto. E se non becchi esposto, continui a camminare finché non lo trovi per l'appunto. Quindi direi che possiamo anche uscire da qui, tanto abbiamo l'uscita qua vicino. Oh, eccoci qua. Che bello, coi raggi solari. E vaghiamo un po' finché non ne troviamo altro, tipo di qui. L'ennesima caverna, dove però non c'è nulla. Allora, devo dire che questo bioma è davvero bello, eh. Qua io ho già sparato tanto di questo bioma, tante di queste zone. Lì c'era un blocco di oro, probabilmente l'ho già preso. Ecco, anche i blocchi di oro dei portali, obiettivamente, potrei prenderli. Qui, credo che questo sia il villaggio dove abbiamo trovato Carmela. Potrei sbagliarmi. Però ho questa convinzione. Di qua si scende, vediamo cosa c'è di bello. Ci sono degli zombie che mi stanno facendo comunque anche male perché ho l'elitra. Quindi non ho l'armatura montata, che potrebbe essere un errore, diciamolo. Allora, qua è tutta sabbia, quindi non c'è neanche pietra esposta. C'è del ferro, non ci interessa. Eccolo, eccoci qua. Oro sia, bello, guarda quanto ce n'è. Goto, siamo già a due stack. Qua c'è un po' di acquetta, ma c'è anche un po' di oro. Raccogliamo. Mamma, quanto. Bello, 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 bello. Guardi qua si esce, ma non ci interessa. Andiamo al villaggetto, dai. Siamo in cima alla torre. Vediamo se c'è qualche blocco che possiamo rubare. Non ci siamo già stati qua, non ci siamo già stati. Ecco, non so se questo è esattamente quello di Carmela, ma se no me eravamo nelle vicinanze. Vedete un portale del nether? Io non lo vedo, purtroppo. Vabbè. Ce ne faremo una ragione. Andiamo verso nuovi orizzonti. Bellissima questa zona qua. Guarda, purtroppo qui è più naturalistico che oro che possiamo portare a casa. Però ci piace lo stesso. Ci piace un botto. Andiamo di qua. Puoi poter che mi sono portato dietro un altro stack di razzi, tra le altre cose, eh? Perché diventava un po' scomodo, altrimenti. Poi è vero che abbiamo il portale qua vicino, ma non mi ricordo le coordinate. Quindi, uh, questa cesta. Una mela d'oro. Beh, che a questo punto prendiamo, perché abbiamo visto che l'oro è più problematico di quel che sembrava. Eeeh, di quel che non sembrasse. Vogliamo usare dei termini giusti? Usiamoli. Qui sotto, ci vogliamo andare? Allora, ci sono tanti zombittini, ma non è un problema. Vedi, perché qua sono tutta terracotta. Comunque un po' sbatti, perché non c'è oro. Oh no, con i velenosi. Guarda, io ho già avuto a che fare con voi. Piccoli bestiacce. Le vorrei evitare se possibile. Ho pure finito le torce. Non buono. Posso dirlo? Non buono. Facciamo così. Facciamo un altro stacchettino. Tanto abbiamo preso anche del carbone. Forse un po' troppe così. Forse decisamente un po' troppe. È arrivato il momento di svuotare un po' l'inventario. Usiamo questi due shulker box che ci siamo portati dietro. Andiamo di qua che c'è almeno c'è il tramonto, che è più bellino. Aaaaaah, ma che posto incredibile con le shaders che diventa Minecraft. Che posto davvero incredibile. Posiamo anche tutto l'oro, un po' di carbone, i lingotti. Usiamo tutto, dai. Vabbè, questa metà la posso tenere. Facciamo così. Non so perché non vedo i blocchi che sto piazzando, però in qualche modo poi faremo. Ora, ho un obiettivo. Dov'è? Allora, questo... Dov'è lo shulker box? Questo è lo shulker box. Non so perché non me lo mostrava. Non facciamo domande perché ho scoperto che spesso è meglio non farle e basta. Se non vuoi sapere la risposta non fa la domanda. Top. Andiamo di qua. Io speravo di trovare una buona quantità di oro e devo dire, chiaramente ne abbiamo trovato già un bel po'. Però, mi aspettiamo anche qualcosina di più. Posso dirlo? Mi aspettiamo un qualcosina di più. Qui tutta sabbia rossa. Questo è il deserto normale. Credo che in qualche modo io stia girando in tondo oltre alle altre cose. Che qui è dove ero prima, giusto? Sì, credo di sì. Esatto. Andiamo oltre. Vedi, è tutta terracotta, mannaggia. Qui? Cosa interessante? Qualche pezzettino tipo qui? Un'altra mela d'oro. Vabbè, non la disdegniamo, chiaramente la mela d'oro. Però lo sbatti è che non trovo minerali se è tutta terracotta. Mi capisci? Cioè, capisci il mio dilemma? Che faccio? Resto qui? O cerco altrove? Cerchiamo altrove. Andiamo lì. Questa è una caverna? Ma neanche per il sogno di... Vepetto. Qui non c'è nulla. Ah, qua c'è una cavernona. Dai. Però c'è tanta acqua anche. Non dovrebbe essere un problema. Dovremmo poter trovare un minimo di oro qua dentro. Eccoci. Bello. Bello, bello. 26, 28, 33. Bellissimo anche lavorare con fortuna. Ecco qua. Questo è il jackpot che stiamo cercando. Vedi? Perché finché non c'è pietra, non posso neanche aspettarmi di trovare chiaramente... Qua c'è l'acqua. Con le shaders a volte non si capisce neanche che c'è l'acqua. Se non c'è pietra, comunque, non posso aspettarmi di trovare oro. Che è un po' un problema, comunque. Perché sono qui. Indovina un po'. Per trovare l'oro. Qua abbiamo i dripstone addirittura. Che non ci fanno impazzire. Ammazziamo lo zombie, bro. Eccolo qui. Ecco un po' di oro. Qui c'è anche un creeperone. Vabbè, ma anche lui non ci fa paura. Oddio. Il creeper un po' paura ce lo fa, però non eccessivamente. Cadi giù. Può anche esplodere, non mi interessa. Oro. Eccoci. Creeperone. Vai via. Uh, no, bro. Questo era il mio oro. Maledetto. Maledetto. Allora, prendiamo quest'altro oro. Grazie. Abbiamo già quasi un altro stack. Uh, bello. Qua c'è tanta pietra. Allora, proviamo a fare un po' di headshot. Il tipo c'è anche l'armatura d'oro, tra le altre cose. Oro. Eccoci qua. Eccoci qua. Così, sì. Ne ho visto un altro po' là in basso. Però volevo prima disfarmi di una buona parte di questi mob. Perché cazzo è pieno qui, eh. Oh. Io lo so che mi girerò, ma mi troverò un creeper addosso. È una cosa probabile? Relativamente. Guarda quanta gente c'è qui, comunque. Posso vedere che c'ho infiniti. Mori un po'. Mori. Mori un po'. Porca vacca. Non ce la faccio. Chi è che mi spara? Chi è il bro che spara? Non lo vedo. Vabbè. Comunque, qua siamo pieni d'oro. Guarda quanto ce n'è. Uno, due. Quello è tutto. Ah no, quello è ferro. Vabbè. A tratti. A tratti ci va bene lo stesso. Guarda qui, bello. Bello. Guarda quanto ce n'è. Questo è ferro, ma questo è oro. Ok. Ok. Bene così. Mamma mia jackpot. Bello di papà. Vi è qua. Poi qui sopra c'è l'altro oro. Andiamo a recuperarlo. Dov'era? Era qui. L'avevo visto. L'avevo visto. Ammazziamo il broschi che... Oh, mi sta attaccando a vicenda. Mi fa piacere. Grazie. Però, insomma, con calma comunque. Non vogliamo creare casini e situazioni complicate. Uh, no. Le stavo buttando, ma non è il caso. Torniamo qui su per prendere... No, basta. Questa roba qui non ci interessa. Terra cotta la buttiamo. Come questi archetti qui inutili. Allora. Ci sarà un po' di oro qui? Ma siamo pieni. Oh, il bro ha un arco incantato. Mi fa anche abbastanza malino. Posso dirlo? Mi fai malino. Se ci fosse ora un bel creeper nell'angolino nascosto non sarebbe una bella situazione. Che cosa incredibile. Sto facendo un botto di screen ma non so quali userò per la copertina. Succede. Anche questo succede. Raccogliamo un altro stack. Siamo già a quattro altre due stack. Vogliamo metterla qua dentro? Mettiamo tutto qua dentro. Siamo a quattro stack. Non è tanto in realtà. Poteva andarci molto meglio. Questa stessa è di mining. Quello è oro? Ma andiamo a prenderlo subitissimamente. Già che siamo qui facciamo una bella scorpacciata di carbone. E nessuno può lamentarsi. Let's go. Ok. Ora vogliamo uscire... Allora diamo un'occhiata anche qui perché probabilmente c'è un altro po' di oro. Giusto? Ok magari no. Uh qua c'è un'altra cavernona. Un po' di oro per me? Ok non sembrerebbe. Non mi piasa. Non mi piasa molto no. No no no. Bella la dripstone eh. Però insomma. Cioè già che siamo qui prendiamola. Comunque si può piazzare. Interessante. Però ce l'abbiamo anche in base capito? Non mi sento di andare troppo giù solo per cose che non mi interessano. Muori. Era oro quello? No perché ormai ce l'ho talmente programmata nella mia coscienza il fatto di... Qua c'è dell'acqua va bene. Dicevo ce l'ho talmente programmata nella mia coscienza il fatto di saltare l'oro che probabilmente anche se lo vedessi lo lascerei lì. Ed è probabile come cosa. Lo sapete meglio di me. Allora questo penso sia l'ennesimo villaggetto che stavo nominando prima in realtà. Oppure è uno nuovo. Non lo so perché muovendomi con il litro penso di aver perso un po' il senso di rentamento. Che ci sta. Cazzo questo è un villaggio bello grande eh. Bello grandino. Simpatico. Chissà se in questa torre ci siamo già stati e abbiamo rubato qualcosa oppure no. Questo è un letto. Non vogliamo rubare il letto. Ce l'abbiamo già. Però vogliamo vedere se c'è qualche cesta qua in alto. Eccoci qua. Pamma. Tanti cactus. E pane. Ma pane non ci interessa e quindi lo lasciamo lì. Cos'altro, cos'altro, cos'altro. Quanto oro abbiamo? Ma non abbastanza. Questo è poco ma sicuro. Vorrei più oro. Come lo recuperiamo più oro? Scavando nella montagna? Beh quella montagna rocciosa mi ispirano un poco. Che se c'è roccia abbiamo oro. Eccoci. Possiamo guardare la montagna dall'alto e tipo a mo' di cecchino individuare l'oro e andare a prenderlo. Già mi sembra un'ottima strategia. Ah va che bello. Uno, due, altri tre blocchi. Di qua si scende ma vogliamo evitare. Saliamo. Oh ma questo? Non so se questo l'abbiamo già esplorato. Ora andiamo a verificare. Prendiamo quest'altro blocchettino. Tra l'altro già che ci siamo dormiamo. Chiaramente. Non vogliamo sbatti. No dai bro. Vabbè allora avviciniamoci alla zona. Se non mi fa dormire ora. Vediamo se ho già esplorato questa torre. No. Non l'abbiamo esplorata. Ci sono i broschi dentro. Li liberiamo? Beh è sempre un po' sbatti perché io li libero eh. Però poi non arrivano fino a casa mia purtroppo. Oh oh. Fermo lì. Mori tu. Che caso fai? Attacchi le fatine blu. Ma sei un cazzo. Ma sei un cazzo sei. Lascia stare le broschi. Oh grazie. C'è qualcosa qua sopra? Ma quella è una zucca? È tipo uno spaventapasseri? In qualche modo? Posso dormire? Dormiamo dai. Dormiamo così ci arriviamo al pensiero. Top. Allora ci sono le fatine blu. Tu vattene via da questo posto maledetto assadonato. Sì sono tipo spaventapasseri. Cioè spaventapasseri. Probabilmente il concetto è training dummy. Capito? Per allenarsi e colpirlo. Però simpatico si potrebbe usare. Senti invece noi andiamo qui. Proviamo a salire ulteriormente. No. Non ti ho detto che mi spari. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Tipo una cesta. Dovrebbe esserci il corno qui. Non c'è il corno. Azz. Vuoi vedere che ci sono già stato? Se ho preso il corno e sono scappato. Probabilmente è una cosa che ho fatto. Eh. Ma lo faccio. Eh. A volte lo faccio. A volte lo faccio. Allora. Torniamo nelle bedlands. Che non abbiamo ancora abbastanza oro. Per ciò che dobbiamo fare. Ah. Anche qui. Bello. Una lush cave. Ma incredibile. Questa è incredibile. Obiettivamente bellissima questa roba qua. Peccato che mi sa che non è bedlands. Se no vedrai molto più oro. Vedo il copper. Vedo il. Un botto di carbone. Mmm. Ferro. Ma non vedo oro. No. Qua non conta purtroppo. Siamo fuori dal bioma. Qui invece dovremmo essere dentro. Quindi se mi infilo qua dentro. A parte lo scheletrone. Dove trovare un'altra lush cave. Come non detto. Fantastico. Vogliamo vedere se troviamo magari un altro axolotl. Un axolotl blow. Bro. Non so cosa sto dicendo. Magari scendendo di qui. Tanto poi comunque risaliamo. Allora. Non ce lo vedo. Oh. No. Questa è semplicemente acqua. Però. È in queste strutture che di solito si trovano gli axolotl. Oh no. Oh no. Non ce lo vedo. Cazzo. Qua non c'è niente. Non vorrei infilarmi troppo in basso. Ma è esattamente ciò che sto facendo. E qua non c'è acqua. Quindi mi sto. Paresemente andando a chiudere. Oh. Piano 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 piano. È così che si muore. Mi sono infilato in una zona non buona. Probabilmente sì. Ma a volte lo faccio. A volte lo faccio. Senti. Prendiamo uno di questi cosettini. Lasciamo delle stringhe. Che cazzo ce ne frega delle stringhe. Vediamo un blocchetto d'acqua. E vediamo. Ci sarà qualche axolotl. E che cazzo. C'è una lush cave così. Sì manca un axolotl mi dai. Mi sembra un po'. Un po' a sfregio quasi. Posso dirlo? Mi sembra un po' a sfregio. Meh. Buongiorno signor creeper. Mi sembra un po' un pezzo di merda lei. Ah pure. Pure l'arco incantato. Maledetto con il knockback. Abbiamo anche il broski. Top. Allora qui almeno c'è della roccia. Che è una cosa positiva perché magari troviamo un po' di... No. Evidentemente non c'è niente. Usciamo fuori. Facciamo un recap. Uh. Oro. Top. Ottimo recap questo. Abbiamo anche la giungla. Ma dove cazzo sono finito? Quello è il villaggetto in cui ero poco fa? Probabile. Molto probabile. Allora prendiamo l'oro. Che prendo molto volentieri. Prendiamo anche la crying obsidian. Che prendo molto volentieri. Ok. Ok. Ci sarà qualche cesta qui da qualche parte? C'è un po' di netherrack. Non so se ci sono anche le ceste. Però vabbè. Non stiamo qui a cercarle troppo che non ci interessa. Un po' di oro qui? Un po' di oro per i zusuri? O no? Eh? Eh? No. Evidentemente no. Vediamo. Abbiamo 4 stack più un blocco d'oro e 4 lingotti. Non è male eh. Obiettivamente non è male. Potremmo dichiarare chiusa la sessione? Potremmo. Potremmo effettivamente. C'è a dire una cosa. Purtroppo lo strip mining si rivela nuovamente forse il metodo migliore per scavare e trovare minerali. Vai nel punto in cui sai che ne trovi di più e scavi. Perché qui comunque sì è più divertente. Stiamo esplorando ma a livello di risorse impiegate quindi razzi, cibo e tutto il resto è proprio un'altra roba. Completamente. Bellissima la scave così. Mi sento a casa quando c'è una scave. Chissà perché. Eh ma quante dripstone ci sono qui? Madonna tantissime. Però niente oro. Vediamo, vediamo un po'. Allora lì ci siamo già passati. Qua c'è un po' di roccia. Mi piacerebbe trovare quel tipo mezzo stack in più che dici. Ah no qua ci sono già stato però. Vedi mi sa che sto girando un po' in tondo. Sembra grande il bioma però tra una cosa e l'altra è facile esplorarlo. Non tutto chiaramente che è difficile però approssimativamente sì. Oh una piramide. Bello. Random ma mi ci piace. Buongiorno. Tutto bene? Qui di solito c'è qualche blocchettino di... Allora cadiamo di qua senza prendere chiaramente la TNT. Allora non c'è un cazzo. Qualche smeraldo. Beh lo prendiamo chiaramente ma non ci lamentiamo neanche troppo. Oro ma come godo. Godo più per questo oro che per gli smeraldi. Di qua la mia altro oro? Alte smeraldi. Vabbè sti cazzi. E prendiamo la TNT da sotto e siamo felicissimi. Ehm. 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 Come torniamo a casa. Come torniamo a casa? Devo andare verso nord. Perché se prima stavamo andando verso sud. Volevo andare verso nord. Uh portale. Vieni qua. Ah l'abbiamo già esplorato. Allora c'eravamo già stati qua. Va bene signori ma per questo video è tutto. Vi ringrazio tantissimo per il giorno. E ci vediamo domani alle 7. Con la prossima puntata di Minecraft Ita. Io per il momento direi che la missione carota possiamo definirla conclusa. Ciao a turuturu tutti.